5-40 anni di lavoro in Inca sempre, non è il terzo lavoro. Da tanti anni la realtà è completamente netta. E c'è almeno metà, almeno metà dei lavoratori italiani che hanno vissuto esperienze parziali di lavoro, ma parziali di un rossino di anni fuori e con modalità unica e normativa diversa dall'integrazione per l'ambiente. Noi oggi abbiamo un sistema di mercato del lavoro molto uguale.